book pro i5 l'avvio pausa meditativa molto molto lunga dopo di che punto interrogativo sulla scherma il disco fisso è stato testato funziona correttamente il sistema è installato correttamente tant'è che collegando il disco via usb esternamente tra un po dovrebbe apparire eccolo qua adesso collego il disco esternamente ecco il disco collegato esternamente tengo schiacciato l'avvio da un test esterno e multi boot ecco qua apparire il disco attaccato via usb e l'avvio avviene normalmente molto lentamente attualmente quindi procederò a contattare il cliente per il la sostituzione della flat sata visto che una parte che ho già cambiato in passato che provoca il problema in passato è già successo con queste queste flat che si addengono probabilmente visto che sono molto molto sottili può darsi che si deteriorino nel tempo sia per un ossidazione o per il calore visto che ci passa comunque all'interno della corrente elettrica e probabilmente aumenta l'impedenza delle trex di questa flat e c'è una perdita dati che viene sicuramente risolta rinviando i dati ma che comunque abbassa la velocità del disco fisso e che comunque peggiorando fa in modo che non vengono più identificati i dischi fissi e per esempio nel caso degli ssd quando vengono sostituiti di elettromeccanici a ssd se l ssd non viene rilevato è quasi con il 90 per cento di possibilità un problema della flat deteriorata è finalmente arrivata la flat di ricambio del macbook pro quello che riesce a bustappare solo via usb oppure dall'interno solo da alcuni dischi fissi procediamo alla sostituzione della flat e anche dal rimpiazzo del led di stato e vediamo se il disco fisso prende funzionare prima effettuiamo un test collegando il disco che non bus trappa ho ricollegato la batteria abbiamo il mac potrebbe essere necessario un reset ram e ora il sistema operativo parte procedo a rimontare tutto ecco il disco montato anche il led frontale è stato riattaccato alla flat di sostituzione sata nel dubbio visto che la velocità del sistema non è così pazzesca ho deciso di clonare il disco del cliente quindi farne una copia fisica devo avere tutti i dati questa è la macchina che uso per la clonazione e adesso una volta finita la clonazione farò una internet recovery o un'installazione da zero del sistema operativo sul mac e poi ricopierò i dati ecco avviata l'internet recovery una volta completata sistemerò i dati ecco la reinstallazione del sistema operativo con la nuova flat sul disco fisso vecchio